La scelta di trasformare il Politeama in uno spazio polivalente fa discutere. Non piace all'assessore alla cultura Simone Mangani. Non piace ai molti cittadini che hanno contestato tramite i canali social l'idea di trasformare la platea in uno spazio per la movida al chiuso. E non convince neppure Eros Sossani, titolare del Cinema Eden, che aveva chiesto lo spazio per farlo ritornare alla sua funzione originaria di cinema. Per come è noto la questione non è una decisione del Consiglio d'amministrazione che peraltro nel caso lo fosse dovrebbe essere valutata alla luce dello statuto del teatro ma è una decisione pare del Presidente Maurizio Nardi. Peraltro il Presidente è sprovvisto di deleghe perché c'è poi un consigliere delegato all'interno della compagine quindi dobbiamo capire esattamente cosa sia accaduto posto che la funzione principale del teatro politico è evidentemente quella di essere un teatro, una sala teatrale. Il CDA sarà convocato nei prossimi giorni per l'approvazione del bilancio consuntivo del 2019. Fatto questo passaggio, entro il 30 giugno verrà presentato all'Assemblea dei Soci. Occasione anche per nominare i rappresentanti dei vari enti, tra cui il Comune, all'interno del CDA. A preoccupare Mangani anche il rapporto con la Camerata. L'attuale configurazione, quella che abbiamo visto in queste ore del teatro, renderebbe ad esempio molto molto complicata una relazione con un partner storico del teatro come la Camerata Strumentale Città di Prato alla stagione 2020-2021 che sarà quella più difficile in assoluto ma soprattutto verifichiamo lo stato dell'arte sul bilancio consuntivo e dopo interverremo. Perplesso ma per motivi diversi o sani. Già dal tempo di Roberta Betti spiega Avevo proposto di utilizzare lo spazio come sala cinematografica. È uno dei teatri più belli d'Italia e sinceramente vederlo trasformato in un posto dove si va solo a bere è un peccato. Ho cercato anche il presidente Nardi negli ultimi tempi ma non ho avuto nessuna risposta.